Vi mando un grande saluto, vi mando un grande in bocca al lupo per il vostro lavoro, per quello che state facendo, per il congresso e soprattutto per la vostra battaglia politica. Una battaglia politica che stiamo tutti insieme facendo in Europa, in un momento drammatico della storia europea, della storia del nostro continente. In questi anni, negli anni che abbiamo dietro le spalle, abbiamo lottato, abbiamo lottato per cambiare l'Europa, abbiamo lottato a partire da due paesi che hanno vissuto, la Grecia e l'Italia, in modi diversi, ma con la stessa intensità, momenti di grandissima crisi e di grande difficoltà. Abbiamo lottato per cambiare l'Europa, in parte ci siamo riusciti. Next Generation EU è sicuramente il frutto di una battaglia politica e culturale per un'Europa diversa, un'Europa della solidarietà, un'Europa in cui la dimensione sociale sia più forte della dimensione finanziaria. Oggi dobbiamo fare l'Europa della pace, oggi dobbiamo fare l'Europa attore, globale, perché la pace sia una realtà e non semplicemente un'aspirazione o una parola. Insomma, dobbiamo fare l'Europa. Io credo che la sfida di questi tempi ci debba spingere a fare il passo verso un'Europa che elimini il diritto di veto, un'Europa che elimini i voti all'unanimità, un'Europa che ci renda tutti più in grado di portare avanti i valori che condividiamo, i grandi valori di democrazia, di libertà, di solidarietà. Siamo insieme in questa battaglia, seguiremo con grande attenzione i risultati del vostro lavoro e sono sicuro che insieme cambieremo ancora meglio e ancora di più quest'Europa. Buon lavoro!